Siamo alla campionaria di Bergamo, siamo nell'area Sicilia, abbiamo il comune di Piana di Albenesi, abbiamo l'onore di avere il sindaco Rosario Petta che insieme alle ragazze con gli abiti storici hanno promosso il comune, le bellezze e insieme al principe di Piana di Albenesi che è il Cannolo abbiamo assolutamente dato voce a un territorio, a un'identità, a una grande storia. Siamo veramente soddisfatti, sono stati giorni molto impegnati, guarda lo sguardo delle ragazze che in questi giorni sono state veramente prese d'assalto dalla televisione, dalle mezzi di informazione, dagli espositori che avevano il piacere di averli nei vari stand per fare la foto con loro e quindi possiamo veramente ritenerci soddisfatti di questo risultato eccezionale grazie alla vostra splendida organizzazione Io Compro Siciliano per la realizzazione di questa area Sicilia Expo ma grazie principalmente al nostro ossessore alle attività regionali, alle attività produttive di Tamaio che ha fortemente creduto in questa iniziativa, ci ha fortemente sostenuto e ne valeva veramente la pena. Da mesi che ne parlavamo, da mesi che avevamo questa idea progettuale, passare dall'idea alla realizzazione ci inorgoglisce e ci dà veramente soddisfazione, quindi è una strada su cui dobbiamo tutti investire e programmare le prossime iniziative. Grazie a voi veramente splendidi ragazzi perché insieme si fa gruppo, insieme si fa squadra e stiamo lasciando veramente un segnale eccezionale qua a Bergamo. Io non mi sento di aggiungere nient'altro perché devo dire che tutto ciò che abbiamo vissuto è veramente la forza della Sicilia, la forza della squadra, la forza del gruppo che riesce a promuovere un territorio. Devo dire, Pianei Albanesi la conosciamo dentro, l'abbiamo portata qua e tanti bergamaschi li ritroveremo in Sicilia a venire a visitare questo bellissimo luogo. Come nelle migliori tradizioni ormai di noi siciliani veri che crediamo nella nostra terra possiamo concludere con tre parole che rappresentano la voglia di Sicilia nel mondo. Al mio 3, 1, 2, 3, io compro siciliano!